allora buongiorno a tutti e benvenuti diciamo a questo nuovo ciclo di webinar del progetto fast dell'ambito a quello dedicato alla transizione digitale come ricorderete ci siamo lasciati diciamo ci siamo probabilmente visti con molti di voi diciamo che hanno lavorato con le task force territoriale regionali diciamo sui sui micro progetti e però diciamo come avevamo avviato un ciclo di webinar nella primavera scorsa che è durato appunto fino al mese di giugno adesso diciamo stiamo organizzando un nuovo ciclo di webinar con il quale diciamo vorremmo un po riaprire le le attività diciamo informative e formative sul sul progetto fast e appunto su tutti i temi che riguardano la transizione digitale e sapete che il progetto fast non so probabilmente ci saranno in ascolto molti di voi che hanno già cominciato a lavorare sui micro progetti che hanno già avuto diciamo il supporto delle nostre task force regionali che stanno appunto lavorando per cercare di accompagnare i micro progetti che sono stati diciamo da voi selezionati sulla base degli assessment fatti e sulla base diciamo della fotografia che insieme con voi è stata fatta della situazione e dello stato diciamo un po della digitalizzazione dei dei comuni il progetto diciamo come lo sapete diciamo supporta i piccoli comuni nella transizione al digitale e quindi con non solo mettersi a passo con gli obblighi normativi ma anche diciamo per far sì che diciamo in questi progetti di trasformazione digitale abbiano successo sappiamo bene diciamo che le risorse le forze diciamo nei vostri comuni sono limitati quindi capiamo diciamo anche qualche qualche difficoltà però ecco vi chiediamo noi stiamo via via contattando tutti tutti i comuni e stiamo avviando le attività adesso la collega roberta chiappe che parlerà dopo di me vi racconterà un po vi darà un po il lo stato dell'arte insomma delle attività ad oggi però diciamo abbiamo bisogno diciamo anche di una collaborazione da parte vostra quindi via via che sarete contattati ovviamente abbiamo bisogno insomma che rispondiate credo che sia un'opportunità da non perdere ve l'abbiamo già detto in altre occasioni come dire che il progetto non fornisce finanziamenti sappiamo che in questo periodo c'è una grande offerta di attività e che appunto le risorse sono poche per seguire tutto però credo che sia un'opportunità comunque da non da non perdere quella di avere insomma anche l'assistenza il supporto diciamo in qualche progetto di appunto di digitalizzazione e comunque di ingegnerizzazione delle attività oggi venendo diciamo ad oggi parleremo di della piattaforma notifiche send e della dell'indicente servizio notifiche digitali e l'inad dell'indice nazionale dei domicili digitali ovviamente è un grande passo avanti e però i comuni sono chiamati ad adeguarsi in tempi rapidi e in alcuni casi hanno potuto anche usufruire dei finanziamenti del PNRR con Michele Vianello che è il nostro relatore di oggi cercheremo di capire diciamo anche che queste non sono soltanto diciamo degli interventi che appunto come dire impattano sulla parte tecnologica del vostro comune ma sono poi processi e sono diciamo novità che impattano anche sull'organizzazione delle attività del comune sui processi di produzione documentale e in questo caso anche appunto parleremo oggi proprio della della notificazione degli atti e Michele Vianello appunto il nostro relatore un nostro appunto esperto sul progetto fast credo che molti di voi lo conoscano perché ha già partecipato è già stato relatore di precedenti di precedenti webinar si è occupato da sempre di transizione al digitale di formazione del personale proprio su queste tematiche sulla reingegnerizzazione dei siti appunto anche sulle sulle varie piattaforme diciamo e sui servizi anche di supporto per gli RTD nella nell'attivazione delle principali piattaforme di interoperabilità e faremo diciamo un altro un altro webinar tra 15 giorni questi diciamo dovrebbe essere la data dovrebbe essere il 22 il prossimo 22 questa diciamo è la adesso parlerà diciamo la collega roberta chiappe che parlerà appunto un po delle attività del progetto fast a seguire appunto Michele Vianello potrete alla fine diciamo fare le vostre domande e proveremo diciamo a rispondere per quel che è possibile in chat la registrazione del webinar la troverete nella solita pagina dove è stata pubblicata la notizia sul nostro sito sul formez nella pagina che è stata indicata qui e queste sono le nostre mail per qualsiasi anche suggerimento questo è il prossimo webinar intanto naturalmente riceverete diciamo tutte le comunicazioni al riguardo comunque ecco intanto tenete nota diciamo prendete nota di questa data e parleremo anche in questa occasione sempre con Michele delle potenzialità della piattaforma nazionale dati e del dello sviluppo di npr allora chiederei mi stacco chiederei alla collega di di cominciare roberta chiappe che ci parlerà appunto un pochino delle a che punto siamo con le attività del progetto fast eccomi buonasera a tutti allora io vorrei sarò breve diciamo che l'intenzione è quella di raccontarvi ci siamo lasciati più o meno a maggio scorso con appunto con gli ultimi webinar quindi l'intenzione di raccontarvi quello che è successo nel frattempo abbiamo finalmente avviato le attività con i comuni e anche sicuramente quindi con molti di voi però poiché oggi abbiamo diversi iscritti che non hanno non sono ancora stati coinvolti dalle task force vorrei fare un breve riepilogo di in pratica per raccontare a tutti cosa cosa fa fast quindi brevemente ricorderete che le nostre attività sono partite con l'avviso per la manifestazione di interesse a cui avete aderito nel settembre il 2022 abbiamo poi pubblicato la graduatoria e come diceva Irene siamo poi partiti con le prime attività informative che abbiamo fatto quindi da febbraio a maggio dopodiché a maggio abbiamo avviato le prime attività con i comuni che stanno andando avanti e il progetto vi dico anche è stato rifinanziato quindi andremo avanti sino al dicembre del 2025 quindi abbiamo anche diciamo quasi due anni di orizzonte temporale davanti per continuare le attività che comunque stiamo abbiamo già avviato direi con anche dei buoni numeri ora vi faccio vedere allora quanti sono i comuni che partecipano a fast quindi i comuni ammessi per questo ambito a che riguarda vi ricordo la transizione digitale sono 285 81 di questi comuni fanno parte di unione di comuni mentre sono stati 663 i comuni candidati quindi abbiamo avuto una grossissima adesione in realtà al momento però possono partecipare soltanto i nostri i primi 285 comuni quindi vedremo poi come proseguire i 285 che sono chiaramente distribuiti su tutte le regioni questi sono i numeri in questa cartina che non so se si veda benissimo quelle in giallo sono le unioni dei comuni non abbiamo tutte le regioni nel senso che per qualche regione non si è candidato nessun comune però le abbiamo quasi tutte ad esempio ricordo che non abbiamo nessuno in friuli neanche in valle d'aosta neanche in trentino e stiamo lavorando con quasi tutte queste regioni abbiamo creato delle task force chi di voi sta lavorando lo sa già siete stati contattati abbiamo delle task force c'è delle persone sono esperti di transizione digitale che si trovano proprio sul territorio e che fanno le attività realizzano le attività in presenza e a distanza con i comuni quindi diceva Irene già prima qual è l'obiettivo fast è quello di supportare i piccoli comuni a sia a mettersi al passo proprio con gli obblighi normativi ma anche proprio aiutarli a pianificare una transizione digitale che possa essere efficace perché sappiamo che i piccoli comuni che vi ricordo voi lo sapete benissimo vanno da direi mezzo dipendente a un numero di 10 15 ma direi che la maggior parte dei comuni con i quali stiamo lavorando hanno più o meno una media di 5 dipendenti quindi spesso non si trovano nel numero di persone o le competenze necessarie quindi cosa cosa abbiamo pensato di fare di ehm per aiutarli a a proprio ad andare verso la transizione digitale abbiamo pensato di eh creare una sorta di catalogo di quelli che abbiamo chiamato micro progetti di transizione digitale nel senso che sono delle attività abbastanza come dire abbastanza contenute soprattutto nel tempo e con un obiettivo chiaro e un output molto preciso per supportare i comuni ora vediamo quindi ehm quali sono ad esempio questi sono solo alcuni temi dei micro progetti nel nostro noi abbiamo creato una sorta di catalogo di micro progetti che proponiamo quindi ai comuni ehm al momento abbiamo venti micro progetti al nostro catalogo eh li abbiamo lo abbiamo creato sulla base delle richieste che ci venivano fatte man mano in questi mesi quindi che cosa c'è ad esempio tra questi micro progetti e lo dico perché si possa capire quello che in concreto si fa ad esempio uno prevede la redazione del piano triennale per l'informatica che vuol dire appunto coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano triennale tra l'altro il nuovo piano dovrebbe essere pubblicato a breve supportiamo il comune nella redazione del piano e poi c'è il manuale di gestione conservazione documentale in cui si vede proprio l'aderenza dei manuali di gestione documentale alle linee guida agide quindi supportiamo il comune nella individuazione intanto dei responsabili di gestione conservazione documentali se non fossero ancora stati nominati nel comune e poi proprio nella redazione del piano ma anche nel ragionamento su come poi vada a tutto fascicolato digitalmente. Il regolamento sulla sicurezza e implementazione e sulla sicurezza e l'implementazione delle misure minime riguarda un'area che è estremamente critica abbiamo verificato per i comuni e per le amministrazioni che spesso si trovano come dire hanno dei fornitori esterni che gestiscono tutta questa tutta l'area della sicurezza però sono spesso in situazioni critiche quindi con questo micro progetto che può essere uno unico o due distinti supportiamo il comune proprio nella redazione del regolamento di sicurezza e nell'implementazione del modulo di misure minimi di sicurezza previsto in base alle linee guida agide. Qualora un comune non abbia ancora nominato il responsabile per la transizione digitale noi lo supportiamo nell'individuazione delle figure nella nomina del responsabile ma anche nel ragionamento su quali siano le attività del responsabile per la transizione digitale e di quali figure debba essere dotato l'ufficio e ci sono poi ancora questi ma ripeto sono soltanto alcuni questi sono 5 dei 20 micro progetti che abbiamo quindi il regolamento comunale per la gestione e l'utilizzo del sito o il piano di comunicazione dei servizi online. Questo per farvi vedere attualmente noi abbiamo avviato 80 micro progetti e questi sono i temi più scelti quindi come vedete al primo posto c'è il piano triennale poi c'è il manuale di gestione documentale misure minime di sicurezza e regolamento sicurezza la nomina dell'RTD quindi direi questi sono i micro progetti più scelti c'è anche la trasparenza amministrativa il regolamento del sito però diciamo che attualmente questi sono proprio quelli che vengono scelti di più come come agiamo qual è il processo da dove si comincia allora si comincia con nel momento in cui il comune viene il comune viene contattato dalla task force sul territorio che prende appunto il contatto e organizza un primo incontro che facciamo quasi sempre in presenza se almeno se il comune è d'accordo e questo incontro è per l'assessment digitale facciamo proprio un assessment che si basa su quattro aree abbiamo sviluppato un questionario che prevede quindi nell'arco di due tre ore due tre quattro ore una chiacchierata con il comune e una verifica proprio di tutti i fabbisogni in termini di digitale da parte del comune una volta fatto quindi questo assessment digitale redigiamo un report e a quel punto si sceglie si passa alla fase di progettazione perché il comune sulla base noi evidenziamo al comune quali sono le maggiori aree di criticità e quali sono quindi i micro progetti che potrebbero meglio servire in base a questo in base alle priorità del comune si sceglie quindi quali sono e qual è il micro progetto dal quale partire la fase di attuazione è quella poi che prevede proprio la realizzazione del micro progetto nel quale i comuni vengono supportati dalle task force sul territorio e da esperti che intervengono invece sui specifici contenuti e questa attività per per fare giusto un esempio dura può durare circa venti giorni un mese nell'arco dei quali si fanno alcuni incontri in genere un incontro in presenza e alcuni incontri a distanza e in molti di questi micro progetti avete visto appunto c'è la redazione di documenti relazioni di manuali quindi noi forniamo alcuni documenti poi lavoriamo insieme al comune per la personalizzazione si fa anche formazione sviluppo di competenze ovviamente dove dove sia dove sia necessario e queste sono le nostre sono i blocchi di regioni diciamo questi che vedete colorati sono proprio le task force per dire un blocco di regioni ligure piemonte un emilia romagna e veneto eccetera così via e sono proprio i blocchi di regioni in cui abbiamo le nostre task force sul territorio e le attività realizzate quindi al momento su 185 comuni abbiamo 96 lettere di adesione vuol dire che 96 comuni stanno partecipando alle nostre attività abbiamo quindi realizzato 90 assessment digitali 90 incontri di assessment digitali che vuol dire fatto quell'incontro di analisi dei fabbisogni digitali fornito il report di conseguenza sono stati approvati 78 piani di lavoro il piano di lavoro è proprio il primo documento dal quale si parte che è una sorta di patto nel quale vengono descritti le attività gli esperti le figure del comune che parteciperanno all'attività e sono stati chiusi quindi realizzati e chiusi micro progetti in 60 comuni in alcuni comuni sono stati realizzati più di un micro progetto quindi come dire queste le le nostre attività molto abbiamo cercato di renderle molto operative molto concrete proprio per come dire un po' rifugire dalla da una logica troppo teorica ma cerchiamo proprio di andare incontro i comuni e personalizzare anche il micro progetto quando possibile queste sono e la distribuzione dei micro progetti già realizzati quindi chiusi tra le regioni vedete abbiamo la sardegna dove sono stati realizzati più micro progetti la sicilia insomma vedete qua tutte le regioni e direi che io con questo finito come diceva Irene avete le nostre email che magari adesso i colleghi le rinseriamo anche nella chat comunque avrete le slide sempre disponibili nella solita pagina territorio in rete perché qualora non fosse stati ancora contattati dalle task force voleste quindi partecipare ai micro progetti essere inseriti nella nella nostra attività o qualora abbiate anche ulteriori dubbi ci potete sempre scrivere direi il modo migliore è contattarci a partire da lì quindi io mi fermo e lascio la parola a Michele Vianello Michele prego interrompi condividiamo bene buon pomeriggio a tutti come vi è già stato preannunciato l'oggetto di questo webinar è il tema della piattaforma nazionale notifiche e del domicilio digitale del cittadino i due acronimi che troverete sempre sono SEND da un lato SEND è la piattaforma nazionale notifiche e INAD cioè l'indice nazionale dei domicili digitali dei cittadini una prima cosa sia SEND che INAD sono già in funzione come vedrete e quindi lo scopo di questo webinar oltre che a darvi alcune basi normative nelle slide che poi sono a vostra disposizione ho ricostruito un po le basi normative quindi oltre che le basi normative vorrei darvi anche un po di suggerimenti pratici che penso soprattutto nei piccoli comuni eh siano molto graditi io lavoro con tantissimi comuni eh in Italia grazie anche a Formez e eh pezzo che manca in questo momento è un po comprendere a cosa serve come funziona quali sono le indicazioni principali il rapporto con i cittadini che poi vedrete una delle cose più rilevanti più importanti perché quando attraverso SEND tu cambi interamente il processo di notifica è evidente che oltre che preoccuparci del nostro modo di notificare dobbiamo anche preoccuparci eh di chi riceve la notifica cioè il cittadino come la riceve cambia ovviamente i costi notifiche cambiano e quindi come vedrete poi vi darò anche un link dove tirar giù materiali per un corretto processo di comunicazione ai cittadini è evidente che questo processo che cambia tantissimo ehm diciamo così eh va assolutamente curato e verificato soprattutto nei piccoli comuni tra cos'è che accelera cos'è che ha accelerato ci metto tre minuti ma è bene ricordarlo ora ciò che ha accelerato il tutto è ehm i bandi PNRR eh da un lato perché i bandi PNRR hanno eh messo a disposizione ulteriori risorse per lo sviluppo delle piattaforme eh come veniva detto prima non ricordo se da Irene o da Roberta tra uno dei prossimi webinar lo dedicheremo alla piattaforma eh nazionale dati e ad ANPR e anche lì le implementazioni sono avvenute anche grande grazie a PNRR però i comuni hanno scoperto l'esistenza della piattaforma nazionale notifiche grazie ai finanziamenti ehm che si ottengono attraverso il eh PNRR però con voi vorrei eh subito fare una prima una prima eh distinzione e cosa ha finanziato il bando PNRR dedicato alla piattaforma nazionale notifiche d'ora in avanti la chiamo SEND per nostra comodità e soprattutto un comune che non ha partecipato al bando PNRR può utilizzare SEND per un'altra delle domande che mi vengono poste affrontiamo intanto il primo il primo problema il bando PNRR finanzia le API le API sono i connettori i connettori che consentono il trasferimento in modalità automatica dai vesti dai vostri sistemi di gestione documentale alla piattaforma quindi un unico flusso digitale che parte dai vostri gestionali documentali e finisce alla piattaforma non casualmente chi ha fatto il bando ha posto come condizione come priorità il flusso documentale che proviene dalla polizia municipale quindi prevalentemente tutto il tema della notifica delle contravenzioni legate contravenzioni comunicazioni e così via legate al codice della strada oltre ad avere il finanziamento di questo connettore c'è poi la possibilità di farsi finanziare un altro connettore e qui le pubbliche comuni meglio si sono mossi in modo diverso alcuni stanno scelto il tema dei tributi locali perché sia polizia municipale che tributi sono i due come li definisco io i due produttori seriali di notifiche altri hanno scelto le notifiche inerenti la scuola eccetera questo è un pezzo quindi le amministrazioni che hanno partecipato a bando pnrr hanno il finanziamento dei connettori che consentono il passaggio dei loro flussi documentali a alla piattaforma fin qua ci siamo ma molti comuni anche piccoli non hanno assolutamente partecipato al bando pnr vi risolvo già un problema quei comuni possono utilizzare la piattaforma nazionale notifiche assolutamente sì quindi il primo invito che faccio a coloro che oggi pomeriggio mi stanno ascoltando è quello di iscriversi tutti sia che abbiano partecipato al bando pnrr sia che non abbiano partecipato al bando pnrr di iscriversi subito alla piattaforma send iscriversi alla piattaforma send poi vi farò vedere un attimo una cosa semplicissima perché perché questo ve lo dico già non potevo proiettarvi slide perché io non posso entrare in piattaforma send essendo un professionista però ho già aiutato più di qualche comune ad entrare a sistemarlo così perché tu puoi caricare le tue notifiche in send sia utilizzando l'api cioè il connettore ma tu lo puoi fare anche manualmente un comune può caricare le proprie notifiche manualmente direttamente in send quindi un comune che non ha partecipato al bando pnrr e non ha quindi ricevuto i finanziamenti per i connettori può iscriversi alla piattaforma send e caricare manualmente direttamente in piattaforma e fare eseguire l'intero processo di notifica direttamente dalla piattaforma caricando manualmente allora chi mi ascolta siete sicuramente dei piccoli comuni fast e fast piccoli comuni fate una seria analisi di quanto notificate ogni anno e dentro questo quanto notificate ogni anno quanto notificate massivamente e quanto invece sono notifiche puntuali quelle manuali semplici quasi sicuramente le notificazioni massive riguardano polizia municipale e eh tributi sono i due grandi notificatori dove piccolissimi comuni a volte polizia municipale notifica anche poco perché non sempre si fa una campagna importante di contravenzioni codice della strada quindi poche trovo tanti piccoli comuni che notificano poco e spesso sono poco polizia municipale e spesso sono eh singoli atti in questo caso si utilizza la piattaforma ma il singolo atto si carica manualmente il resto sono quasi tutte notifiche puntuali devo notificare ad un'impresa ad un cittadino o anche un'impresa l'abbattimento di un capannone perché c'è una busta non serve utilizzare il connettore automatico si carica manualmente quindi cominciate se volete un mio consiglio iscrivetevi tutti a send poi farò vedere dalla piattaforma non è sciocchezza alla fine niente niente di particolare una volta che vi siete iscritti a send poi una volta che entrate potete optare se c'è un caricamento via API quindi caricamento via API è aver partecipato al bando PNRR però attenzione se uno ha risorse proprie può ugualmente comprare l'API cioè non è obbligatorio aver partecipato al bando PNRR bando PNRR accelera il processo oppure ti dice vuoi caricare manualmente se tu scacci manualmente si apre un'interfaccia molto semplice che ti consente a partire dal numero di protocollo di caricare e cominciare a caricare gli altri quindi niente di niente di particolare ci tenevo a dire questo perché molte piccole amministrazioni che hanno fatto il bando PNRR dicono ma io non posso utilizzare non è assolutamente vero si opta per il caricamento manuale peraltro la scelta di fare il caricamento manuale è anche un po' una sorta di autodifesa verso fornitori che ti chiedono soldi per poter utilizzare l'API per fare il caricamento automatico peraltro nonostante l'API sia vostro si può tranquillamente bypassare il fornitore caricando manualmente peraltro e qui finisco questa prima parte ricordatevi che alcune amministrazioni che trovo cominciano già ad avere messi notificatori che pongono il problema ma io oggi cosa faccio perché la piattaforma nazionale notifiche sostituisce totalmente la figura del messo notificatore una prima modalità di reimpiego e riqualificazione del messo notificatore è quella di insegnare il caricamento a mano che devo dire una cosa tutto sommato molto 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 semplice ma è una cosa sulla quale il messo notificatore può essere tranquillamente utilizzato quindi ho voluto chiarire fin dall'inizio prima di farvi vedere parti normative eccetera eccetera fin dall'inizio che tutti voi tutti potete utilizzare la piattaforma nazionale notifiche e insisto vedrete gli infiniti vantaggi soprattutto per i piccoli comuni di utilizzare nel processo di notifica la piattaforma vi fa risparmiare infinitamente tempo vi libera se avete un messo notificatore quella figura per rioccuparla in altre attività ed è spesso è l'unico della polizia municipale che avete quindi si può fare un'attività rilevantissima quindi vi primo consiglio cercherò di darvi un po di consiglio oggi pomeriggio oltre che farvi vedere un po di teoria in questa slide vi sto ponendo questo tema è necessario valutare governare l'impatto partiamo dalla prima importante affermazione l'introduzione di send ferma il vostro processo di notifica alla produzione dell'atto quindi la vostra attività di produzione degli atti di notificazione meglio si ferma alla produzione degli atti perché poi gli atti vengono trasferiti in piattaforma e che l'atto sia digitale o sia analogico la piattaforma trasforma in analogico lo fa interamente la piattaforma ergo avete un cambiamento di organizzazione del lavoro perché voi dovete preoccuparvi esclusivamente di una corretta produzione dell'atto poi vi dirò cosa si intende per corretta produzione dell'atto perché poi materialmente il processo di notifica non lo fate più voi lo fa direttamente la piattaforma questo vuol dire da un punto di vista organizzativo che ad esempio voi non scrivete più le cartoline con raccomandata ricevuta di ritorno e abbattete spese portali per altri non fate più quel lavoro che quello poi di ricercare le cartoline rr e da copiarle a dati cartacei perché questa cosa non esiste più l'intero processo è totalmente digitale solo digitale e come vedremo poi però presuppone una corretta gestione del flusso documentale e come previsto dalla legge deve essere assolutamente solo e solo digitale questa è la piattaforma quello che vi consiglio è chi non è iscritto lo fa tranquillamente lo fa partendo da questo accedi vedete che è divisa in enti cittadini e poi le facci quello che a noi interessa è la parte enti poi vi farò vedere anche la parte cittadini dalla parte enti voi accedete e iscrivete la vostra amministrazione qui vi ho messo l'indirizzo web dal quale poter accedere chi è che deve iscrivere? il comune Ascend la figura che deve iscrivere il comune Ascend è il responsabile per la transizione al digitale si identifica col suo ospite e fa l'intero processo di iscrizione è un processo semplicissimo raccomandazione attraverso la piattaforma attraverso SEND monitori lo stato di avanzamento di un atto mentre prima dovevi aspettare le cartoline rr copiare le cartoline rr eccetera eccetera oggi lo stato di avanzamento di un atto tu lo vedi direttamente dalla piattaforma quindi in una prima fase c'è l'amministratore che iscrive l'amministratore la reti di internet che iscrive l'amministrazione Ascend ma è bene poi che l'amministratore consenta ability altri colleghi a poter operare in piattaforma perché perché il responsabile dell'ufficio tributi deve poter monitorare lo stato di avanzamento di ogni singola sua notifica perché il corpo di polizia municipale deve poter monitorare eccetera eccetera quindi i settori devono essere abilitati a entrare questo intanto è il primo motivo ma può anche abilitare un altro uno o più altri amministratori ad esempio il famoso messo comunale per poter fare l'inserimento a mano delle diverse notifiche quindi quello che interessa a voi è la parte enti accedi enti adesione molto semplice la parte cittadini che poi vedremo è quella attraverso la quale il cittadino monitora anche lui o riceve la notifica che voi gli avete inviato quindi piattaforma molto semplice qui c'è l'indirizzo scusate se posso sembrare un po' pedante ma siete in una fase in cui avete scoperto send solo per chiedere il finanziamento poi di queste cose spesso se ne sono volute curare i vostri fornitori ma qui il fornitore poi non c'entra più la scelta di caricare a mano voi vedrete stare spesso osteggiata dal fornitore soprattutto se vuoi soldi per fare i caricamenti però se voi siete piccoli e caricate 20 notifiche perché dare soldi a un fornitore quando potete caricarli voi a mano sulla piattaforma molto più semplice l'API cioè il caricamento automatico consiglio si utilizzi se ci sono grandi quantità devo caricare 150 200 300 200 verbali e contestazioni dal codice della strada ovvio che non li carico a mano utilizzo l'API cioè il connettore li carico tutti in automatico ma se io devo tributi io devo spedire gli accertamenti tributari anche se sei un piccolo comune 200 300 400 500 accertamenti atti di accertamento li devi spedire e quindi è chiaro ti serve l'API hai avuto l'API utilizzando PNRR cioè quella che collega software tributi e piattaforma lo fai con i soldi PNRR altrimenti metti qualche soldo proprio di finanze del comune e compri il connettore anche perché poi quei soldi li recuperi tranquillamente perché non hai più spese di bolli non hai più spese postali e non hai più spese di persone che scrivono cartoline RR è una perdita di tempo infinita e questa non esiste assolutamente più quindi conviene farlo però torna il caso devo contestare ad una singola persona un atto devo comunicargli un atto non ha senso utilizzare un connettore si carica manualmente quindi quando prima nella slide precedente vi dicevo valutare e governare l'impatto intendo dire vi consiglio di fare una seria verifica di cosa notificate voi e poi alla fine fate questa scelta ciò che è tanto connettore ciò che è poco si carica a mano però vi consiglio fatelo adesso cioè non aspettate l'ultimo momento peraltro nella mia attività sto consigliando i comuni in attesa di avere i connettori quelli massivi di cominciare già a sperimentare oggi il caricamento a mano e la notifica a mano fatene 5 6 7 10 provate così imparate come funziona e cominciate a vedere l'andamento e peraltro poi cominciate a vedere anche diciamo così l'impatto sulla popolazione che vedrete non è assolutamente secondario perché gli cambi interamente il mondo mentre prima erano abituati qui la qui la campanello sono il potino c'è una raccomandata per lei è quello che attualmente succede e qui bisognerà poi vi spiegherò come funziona e bisognerà abituare il cittadino a verificare a utilizzare o l'API o utilizzare una PEC o utilizzare una mail e poi entrare in piattaforma per vedere i loro atti l'atto è in piattaforma l'atto non per loro capita più il postino a casa l'atto è in piattaforma però bisogna spiegarlo al cittadino poi vi dirò anche qua cosa bisogna cominciare a fare quindi questa è la porta di ingresso normativa vi dico la normativa perché alcune parti pratiche le capirete direttamente dalla normativa allora il primo atto l'atto papà o mamma come volete definirlo voi è la legge 27 dicembre 2019 numero 160 che è un decreto semplificazioni se non mi ricordo male che vedete al fine di rendere più semplice efficiente sicura economica la notificazione ecco attenzione la notificazione con send è una notificazione che ha valore legale ogni passaggio che viene fatto da un atto su send vi farò vedere poi una simulazione è interamente tracciato e ha valore legale è come quello che fa il messo notificatore come quello che fate attualmente quindi notificazione con valore legale di cosa atti provvedimenti avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione non c'è scritto solo ciò che attualmente voi appiccicate una rr può essere qualsiasi atto qualsiasi provvedimento qualsiasi avviso qualsiasi comunicazione vedrete poi le uniche che non si possono in questo momento ancora utilizzare non riguardano voi perché sono quelle che sono legate al processo sono legate alle cause civili alle cause penali quindi non riguardano voi di voi direi praticamente tutto atti provvedimenti avvisi comunicazione della pubblica amministrazione in questo caso affida ad una società dunque la società della quale si parla qui è la società Pago.pia quindi quando voi troverete società ricordatevi che la società proprietaria della piattaforma è Pago.pia Pago.pia non è solo la piattaforma di pagamento che tutti voi ormai avete imparato ad utilizzare Pago.pia è una società ed è la società che per conto della presidenza del Consiglio dei Ministri gestisce tutte le piattaforme dalla piattaforma nazionale dati appunto alla piattaforma nazionale notifiche quindi la società a questo punto ha sviluppato la piattaforma Send chi l'ha fatta chi non l'ha fatta in questa fase mi interessa si so chi sono ma mi interessa molto poco quindi voi dovete sapere che il nostro punto di riferimento è la società eccola qua questo è il sito di Pago.pia vi consiglio anche qua di andarvi a fare le vostre visitine così voi le trovate dentro questa sezione che si chiama prodotti e servizi trovate la piattaforma notifiche digitale degli atti pubblici attenzione anche da qua potete entrare in piattaforma quindi anche da qua voi siete in grado di entrare in piattaforma nazionale dati peraltro se voi entrate da qua troverete non solo piattaforma nazionale dati ma troverete anche piattaforma nazionale notifiche scusate anche la piattaforma nazionale dati quindi imparate a usare questo sito che è abbastanza interessante cosa ha tradotto in realtà la nostra la nostra piattaforma e questo vi consiglio di leggerle perché da qui si capisce bene gli ambiti di utilizzo della piattaforma e come funziona è il decreto legge 16 luglio 2020 numero 76 che si chiama misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e questo era proprio il decreto legato al tema della semplificazione dell'innovazione l'articolo 26 è interamente dedicato alla piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione le modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione e qui cominciamo a vedere le prime cose che ci interessano non è sufficiente che voi abbiate il connettore o carichiate a mano perché la piattaforma per poter notificare verifica che ciò che voi caricate sia giuridicamente notificabile cioè abbia un valore abbia un valore di notifica ai fini della notificazione di atti provvedimenti avvisi e comunicazioni in alternativa alle modalità previste quindi se si fa questa non fai più le raccomandate rr non affidi più ad aziende private la postalizzazione perché spesso oggi Polizia Municipale l'intero ciclo di produzione delle sue notifiche e le loro postalizzazioni le affidano ad un soggetto esterno non è più così perché nel momento in cui tu hai comprato l'API o carichi manualmente tu fai improprio non devi più pagare quindi risparmio una postalizzazione esterna attenzione a questo punto tanto è vero che se voi avete contratti come quelli vi conviene bloccare quei contratti e renderli validi solo fino al momento in cui tutto viene convogliato sulla piattaforma nazionale notifiche perché altrimenti voi avete una doppia spesa e questo assolutamente non è possibile quindi sono alternative alle modalità previste attenzione anche in materia tributaria perché anche tutta la parte tributaria può essere tranquillamente notificato utilizzando send quindi tutto il vostro tributo locale nella sua modalità di notificazione esce dalla normativa che voi conoscete perché entra interamente dentro questa normativa che è quella dell'utilizzazione di send le amministrazioni possono rendere possono perché non è obbligatorio per voi l'utilizzo di send potete scegliere di utilizzarla potete scegliere di non utilizzarla attenzione quando più avanti spero ci arriviamo perché il tempo vola abbastanza vi parlerò di inad cioè dell'indice nazionale di domicili digitali dei cittadini se voi nella verifica che un cittadino sia o no in inad vi accorgete che lui è in inad quindi ha eletto il proprio domicilio digitale voi potete notificare direttamente senza utilizzare send da vostra pec alla pec del cittadino e basta saltando la piattaforma e questo ad esempio è un risparmio per voi ma un risparmio per il cittadino quindi attenzione che questo possono poi ci sarà sicuramente un giorno in cui si dice devono utilizzare la piattaforma in questo momento non ci siamo attenzione in questo momento non ci siamo fino a un certo punto perché ormai ci sono veri dati che ho visto in queste in queste ore più di duemila comuni sono già in send qui non sono pochi più di duemila comuni sono in send ma ad esempio ho visto circolare non l'ho ancora letta quindi mi scuso o voi altrimenti ve l'avrei già fatta vedere oggi ho visto circolare del ministero dell'interno per cui tutte le loro notifiche ad esempio in materia anagrafica quindi cambi di residenza che prima venivano affidate ai comuni come fase di notificazione quindi messi notificatori dal primo febbraio la fanno esclusivamente utilizzando send anche loro quindi anche là tutta questa attività che facevano i messi notificatori vostri per conto dei ministeri vari o di altri comuni finisce perché avviene tutto dentro send quindi prima ci entrate prima cominciate a sperimentarla è meglio però attenzione ci siamo possono rendere disponibile telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici quindi ciò che voi inserite in piattaforma è un documento informatico aggiungo la formazione trasmissione copia duplicazione riproduzione validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82 il codice dell'amministrazione digitale e delle linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto ovvero linee guida agide su formazione gestione conservazione del documento informatico pienamente operattive dal primo gennaio 2022 siccome vi ho detto che si teoria ma io poi voglio essere molto pratico la mia domanda è questa ed è quello dove eventualmente attiviamo un microprogetto se non siete sicurissimi attiviamo un microprogetto di formez la vostra produzione documentale avviene secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005 cioè il CAD e delle linee guida quello che voi trasferite alla piattaforma deve essere un documento informatico creato secondo i requisiti di legge cioè giuridicamente notificabile ovvero creato secondo quanto previsto nel rispetto del decreto legislativo cioè dal CAD e dalle linee guida per capirci è un pdf firmato digitalmente gli originali dei vostri documenti sono pdf firmati digitalmente vi faccio un esempio perché altrimenti la piattaforma ve li respinge come capite voi inserite atti in piattaforma ma la piattaforma respinge perché sono considerati giuridicamente non notificabili no? perché non sono validi non hanno valore per capirci se qualcuno ancora continua a fare dei word li stampa li firma con la penna e poi li scansiona la piattaforma respinge perché quell'atto non è valido non è giuridicamente notificato quindi se io fossi in voi primo esame da fare è quello se soprattutto i due grandi produttori seriali ovvero Polizia Municipale e Tributti perché sono quelli i due grandi i due seriali come li definisco io producono questo tipo di documenti è meglio se i software con i quali si fa si sviluppano le contravenzioni e contravenzioni codice della strada e non solo e soprattutto il tema grande degli accertamenti tributari producono atti pdf firmati digitalmente questa è la prima cosa che voi dovete assolutamente verificare ovviamente quindi è il tema della formazione poi vedremo bene il tema della copia e della duplicazione e tema della riproduzione e validazione temporale di documenti è il tema della firma digitale quindi attenzione devono avere tutti quelle caratteristiche prima domanda fino a qua sono stato chiaro avete qualche domanda non voglio essere torrentizio c'è qualche prima domanda intanto mi bevo un goccio d'acqua vediamo in chat tutto ok per ora ottimo andiamo avanti secondo punto che vi complica quindi vedete qui vi ho messo i riferimenti di legge ok i riferimenti di legge sono l'articolo 40 del CAD formazione di documenti informatici le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti inclusi quelli inerenti a dalbi elenchi e pubblici registri con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui è il presidente Crodice e le regole tecniche di quell'articolo 71 regole tutto grazie 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 Rosaria veramente secondo le disposizioni di cui è il presente Codice e le regole tecniche di quell'articolo 71 le linee guida agi sul documento informatico sono state pubblicate ai sensi scusate ai sensi del decreto ai sensi dell'articolo 71 del CAD ma articolo 20 del CAD il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta quindi uguale allo scritto e l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile quando vi apposta la firma digitale altro tipo di firma elettronica qualificata eccetera eccetera quindi il combinato disposto di questo dice la piattaforma accetta PDF firmati digitalmente PDF articolo 40 formazione del documento mi direte perché PDF perché perché eh eh Cristina Core poi rispondo Cristina perché la domanda è importantissima le notifiche tramite send per i cittadini privi di competenze e materiale e e materiale tecnologico eh che sono ancora tantissimi come avvengono a questo rispondo più avanti ok allora PDF A perfetto quindi va prodotto il PDF A 1 e va firmato digitalmente quindi risponde interamente ai requisiti la piattaforma lo accetta perché non potete farlo in altri formati non lo fate in altri formati perché le linee guida in particolare l'allegato 2 è quello sui formati che devono utilizzare le pubbliche amministrazioni dice che il PDF è il principe dei formati e quindi ci consiglia caldamente di utilizzare il PDF ok andiamo avanti e qui c'è il punto più complicato per voi dove dovete fare un passettino in avanti e dove stamattina sono reduce peraltro da un match con un fornitore i fornitori tendono un po' a crearvi qualche problema allora ciascuna amministrazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo numero 82 e delle linee guida individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti provvedimenti avvisi comunicazione anche attraverso certificazione di processo nel caso in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e dell'attore a cosa ci stiamo riferendo ovviamente qui non ci si sta riferendo ai nuovi documenti che producete perché i nuovi documenti che voi producete sono PDF A1 meglio firmati digitalmente qui è il caso in cui voi abbiate da notificare allegati ad un qualche atto documenti che in origine in altra epoca oppure anche se voi non producete originali perché capitano anche le amministrazioni che non producono ancora digitalmente tutto producete carta cioè quando voi producete carta o dovete notificare atti che in origine erano cartacei e voi dovete trasformarli in digitale e qui c'è il tema dell'articolo 22 del TAD cioè il tema della scansione ovvero voi dovete scansionare questi documenti vi faccio vedere l'articolo 22 così perché voi mi direte ma è banale già oggi noi ad esempio al protocollo scansioniamo sì ma la scansione vedete corrisponde nella forma e nel contenuto all'originale cioè quando voi oggi scansionate soprattutto i vostri colleghi del protocollo ma non sono voi verificate che nella forma e nel contenuto scansione e file di carta e scusate non che file di carta e carta siano identici vuol dire se la carta era a colori scansione deve essere a colori se erano dieci fogli dieci fogli se erano dieci fogli con tre di bianchi dentro dieci fogli con tre di bianchi dentro forma e contenuto era una tre una tre forma e contenuto devono essere identici state solo attenti a un punto come vedete la legge delega voi la modalità con la quale fate l'attestazione di conformità perché una volta accertato che nella forma e nel contenuto carta e digitale sono identici l'articolo 22 l'articolo 22 poi adesso ve lo faccio vedere del CAD comma 2 dice che o un notaio ma ve lo sconsiglio diventate mati o un pubblico ufficiale delegato quindi uno o più di uno di voi meglio averne più di uno a fare l'attestazione di conformità e la firma digitalmente la modalità con la quale voi fate l'attestazione di conformità la decidete voi non c'è nessun altro che da fuori vi dice come si fa perché questo perché il riferimento normativo è la vecchia 4 e 45 del 2000 ovvero il testo unico sul documento amministrativo attribuisce piena autonomia piena autonomia alle amministrazioni in questa scelta vi do già vi faccio vedere la legge poi vi do già un consiglio su come farlo perché ormai di queste cose ne sto facendo quindi vi do già un consiglio su come secondo me è opportuno farlo perché se aspettate i fornitori parliamo di stand nel 2741 quindi vi dico già com'è meglio farlo questo è l'articolo 22 del CAD coppie informatiche di documenti analogici in realtà l'articolo è composto di tante altre parti ma mi interessano soprattutto questo questo 1 bis 2 il primo è quello che ci dice che la coppia per immagine sul supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico di cui è tratto vedete contenuto e forma identici di quelli del documento analogico di cui è tratto previo raffronto dei documenti e questo è quello che fa chi scansiona o attraverso certificazione di processo cos'è la certificazione di processo la certificazione di processo non attiene a questo esempio la certificazione di processo riguarda grandi archivi io devo scansionare 10.000 pagine è ovvio che io non posso fare il raffronto diviso di 10.000 pagine lì si va a campione ogni 100 pagine delle 10.000 ne vediamo uno diviso e attestiamo che l'intero lotto va bene ma nel nostro caso sono solo raffronti quindi si scansiona l'atto si raffronta e nella forma e nel contenuto si verifica a questo punto scatta il comma 2 la coppia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia approbatoria quando prima vi parlavo di giuridicamente notificabili è perché devono avere efficacia approbatoria se voi state notificando qualcosa che un domani può anche andare in giudizio e non può essere disconosciuto da parte se non c'è l'attestazione di conformità l'atto può essere disconosciuto no? se la loro conformità è attestata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale o ciò autorizzato secondo le regole tecniche che stabilizza i sensi dell'articolo 71 quindi sempre le linee guida delle quali noi abbiamo parlato ora cosa vi consiglio di fare però non ho ancora trovato fornitori quindi vi suggerisco una strada intermedia se fate poi con noi il progetto Formez quello sul manuale di gestione documentale e su questi temi vi spiego anche meglio come fate questa fase di attestazione di conformità sponsorizzo diciamo un po' quel progetto perché è quello che vi trae le condizioni per utilizzare send bene cioè voi utilizzate send bene se la gestione documentale è a poco altrimenti alla lunga avete qualche problema allora voi provvederete alla scansione attualmente fate la scansione ciò che è carta in questo momento viene scansionato ammettiamo sia un foglio un foglio solo attestate la scansione lo producete in pdf ok? poi voi predisponete già un secondo foglio che è l'attestazione di conformità quindi il sottoscritto tal dei tali eh pubblico ufficiale del comune X attesta attesta la conformità ai sensi dell'articolo 22,2 trasformate i due file pdf in un unico file pdf e lo firmate digitalmente così è valido e la piattaforma ve lo accetta cioè l'attestazione di conformità diventa parte integrante di ciò che è stato scansionato è l'ultima è l'ultimo foglio o il primo l'ultimo foglio della scansione che voi fate ovviamente non sono più di una firma è un'unica firma digitale su un unico pacchettino questo potete farlo è diciamo così un po' più laborioso perché la scansione la fate fuori dal gestionale documentale dovete riunificare due file lo fate fuori dal gestionale documentale fate la firma fuori dal gestionale documentale poi lo dovete ricaricare è un po' laborioso la soluzione è che questa cosa vi venga fatta direttamente dentro il gestionale documentale dei vostri fornitori quindi chiedete qui tralascio i nomi perché tutti voi li conoscete meglio di me dovete cominciare a chiedere rapidissimamente rapidissimamente ai vostri fornitori di predisporre l'attestazione di conformità perché altrimenti insisto se voi dovete notificare atti ab origine certacei e voi vi trovate nell'impossibilità di notificare perché come vi ho fatto vedere un attimo fa la piattaforma se non risponde a questi requisiti la piattaforma le spinge altro accorgimento qui non vi ho fatto slide perché questa parte sta all'interno del regolamento che poi vi farò vedere l'attestazione si presenta solo quando ci troviamo di fronte alle scansioni e non di fronte ad atti che arrivano da sistemi certo Rosaria perché se l'atto ti arriva direttamente dal sistema il sistema te lo deve dare in pdf e poi voi lo firmate digitalmente per capirci gli atti di un accertamento tributario vengono prodotti vengono prodotti dal gestionale documentale il gestionale documentale sfornerà tanti pdf pdf vengono firmati digitalmente ok Lucio ho capito che a te piacciono i pdf a uno nativo però devi entrare nella logica che non tutti usano office che non tutti usano open office cioè ti piaccia o no questo non tutti lo utilizzano perché molti gestionali documentali e tralasci i nomi dei fornitori ti danno un semplice pdf il pdf a uno nativo è chi ha open office e fa direttamente da open office l'atto ma polizie municipali lo fanno da concilia lo fanno da citato un fornitore lo fanno da cosi e lì non sempre esce un pdf a uno nativo capisci capisci cioè Lucio io però non posso fare la guerra ai fornitori io non posso fare la guerra ai fornitori io devo lavorare lucio hai ragione io stesso parteggio per te ma io in questo momento devo lavorare su quello che ho cioè in questo momento io devo mettere in conto che ho gestionali di tributi e gestionali di polizia municipale e sono quelli che tutti voi avete tralaccio i nomi dei fornitori perché tanto mi confermereste che i fornitori sono quelli per cui neanche neanche faccio i nomi peraltro non è elegante e perché così è possiamo stare molto attenti agli atti quelli che produciamo noi ad esempio devi fare una diciamo così devi notificare quindi notifica singola ad un cittadino inventati te cosa che non sia attributi o diciamo così o polizia municipale originariamente tu fai un word oppure da diciamo così oppure da da open office il corrispondente di di word puoi lo viri in pdf a uno nativo se ti consente di farlo a quel punto firmi in pdf e spedisci in piattaforma però è un caso io sono d'accordo con te dobbiamo arrivare a questo ma io devo fare un altro mestiere in questo momento cioè devo portarvi ad operare tranquillamente da domani mattina peraltro vi sto dicendo non legatevi strettamente ai fornitori perché loro lavorano in un altro modo no? ok va benissimo il word lo apri in open office sì ma non tutti hanno open office molti di voi hanno il pacchetto office 365 capisci? cioè non tutti hanno open office eh ho capito che si scarica gratis ma lucio io eh guarda vi confermo dice alberto vi confermo che anche microsoft alcune versioni produce lo stesso iso cioè a uno quindi vedete che in realtà si può fare anche da ci siamo intesi ok eh per i gestionali valgono la riflessione di Michele cioè sono questi in questo momento è così il mondo nostro ahimè questo piace o no il mondo nostro è questo nonostante molti di noi però rinorano a casa dell'open però via nello vale uno cioè non ho la potenza di poter fare eh cose diverse da da questo ehm torniamo indietro perché abbiamo leggermente perché abbiamo leggermente perché abbiamo leggermente deviato quindi attenzione a questo al tema come ve lo sto come ve lo sto eh ponendo attenzione eh nel regolamento c'è un tema importante dovete verificare gli indirizzi che adesso non lo vedrete perché non lo trovate in legge ma è nel regolamento poi vi farò vedere dove vi scaricate il regolamento il regolamento è già disponibile gli indirizzi perché quando voi spedite alla piattaforma il vostro atto da notificare la piattaforma verifica se gli indirizzi sono corretti cosa intendo per corretti se sono professionisti iscritti agli albi sono le PEC di INIPEC se sono le PEC di INAD quindi cittadino che ha eletto un domicilio digitale è la PEC di INAD per tutti gli altri indirizzi ANPR quindi riflessione, vianello e consiglio verificate con i vostri fornitori che i vostri indirizzari soprattutto Polizia Municipale e Tributi che sono i due grossi seriali che gli indirizzari siano allineati ad ANPR a meglio allineamento dinamico poi quando vi parlerò nel prossimo seminario di piattaforma nazionale dati di ANPR vi chiarirò ancora di più questo aspetto ma tutti gli indirizzari devono essere allineati ad ANPR perché la piattaforma va a vedere in ANPR se gli indirizzi sono corretti perché l'anagrafe è quella di ANPR per cui voi potreste notificare spedire correttamente l'atto a SEND ma avere un indirizzo non corretto perché non è in ANPR la piattaforma rispinge quindi attenzione siccome abbiamo un po' di tempo ce l'abbiamo al netto delle caricamenti a mano come vi dicevo prima vale la pena di cominciare a chiedere ai fornitori l'allineamento ad ANPR perché attenzione l'allineamento ad ANPR è una roba importantissima cosa succede quando voi notificate e qui comincerò adesso un po' alla volta a entrare anche cosa succede nel versante cittadino perché finora sto parlando di voi ma poi c'è il tema cittadino cosa succede allora il gestore della piattaforma nel momento in cui voi trasferite l'atto generano uno IUN lo IUN è l'identificativo univoco della notificazione quindi ogni notifica ha uno IUN chi riceve lo IUN? lo IUN lo ricevete voi ma lo IUN lo riceve anche al cittadino attenzione il cittadino è pari a voi anche lui sa tutto del suo processo di notifica e anche lui lo vede in piattaforma nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione e qui veniamo al cittadino vi anticipo questo tema perché altrimenti poi non facciamo tempo ad arrivarci allora consiglio a tutti voi in quanto cittadini non in quanto rappresentanti di comuni e ovviamente poi campagna di comunicazione ai cittadini è opportuno che ogni cittadino aderisca a SEND spiego cosa vuol dire aderire a SEND probabilmente qui avanti saltando un po' di leggere ho anche tanto ve le... eccolo qua aderire a SEND poi torniamo indietro sulle altre cose cosa vuol dire aderire a SEND vuol dire comunicare a SEND le modalità attraverso le quali nel momento in cui il comune di Fornipopoli ha messo in piattaforma un atto il cittadino riceve un avviso di cortesia che dice c'è posta per te facciamo il parallelo con il mondo attuale il postino suona alla vostra porta e dice raccomandata ok? questa fase postino che suona alla porta e dice raccomandata te lo riproduce anche SEND come si fa? si entra all'interno di SEND vi ho fatto vedere prima la piattaforma l'indirizzo l'area cittadini e dici a SEND la modalità attraverso la quale vuoi ricevere l'avviso di cortesia le modalità sono queste quattro ho una PEC quindi tu inserisci all'interno di SEND il tuo indirizzo PEC riceverai sulla tua PEC l'avviso c'è posta per te ma riceverai anche il link per entrare in SEND e scaricare i tuoi documenti e io questo ovviamente l'ho flaggato perché ho PEC e sono iscritto anche al domicilio digitale del cittadino oppure comodissimo io ho fatto anche questo Appio dentro l'Appio è già oggi disponibile un'area dedicata a SEND notifiche digitali quindi l'avviso di cortesia vedete con valore legale attenzione l'avviso di cortesia ha valore legale l'avviso di cortesia ti avvisa su Appio e quindi Appio ti dice guarda che c'è posta per te dal comune di Porlimpopoli se tu entro 5 giorni quindi 120 ore dalla ricezione vai in SEND e apri la notifica quindi scarichi l'atto non ricevi nessuna raccomandata cartacea se invece tu fai finta di niente parte la carta e poi vediamo come funziona la parte carta oppure puoi scegliere di avere il tuo avviso di cortesia o tramite una mail oppure tramite un SMS cioè lasci il tuo numero di cellulare quindi il cittadino voi cittadini in questo momento sto parlando dei cittadini consiglio andate in SEND e dite a SEND in quale modalità volete ricevere l'avviso di cortesia se avete una PEC saldo consiglio PEC altrimenti Appio io ce l'ho funziona oppure email e sms ok il fatto che voi abbiate indicato a SEND il luogo dove volete l'avviso di cortesia genera questo processo genera il fatto che nel momento in cui la piattaforma riceve la notifica dal comune di Forno in Popoli manda subito l'avviso di cortesia io ricevo l'avviso di cortesia entro in SEND in un'area che vedrete che si chiama le tue notifiche trovo la mia notifica ricordatevi che quell'area le tue notifiche conserva per cinque anni con valore legale tutte le notifiche che hai ricevute dalle pubbliche amministrazioni quindi non serve più carta eccetera eccetera ok a questo punto clicco sulla mia notifica è questo processo guardate è questo processo eccolo qua clicco sulla mia notifica a quel punto è come se io avessi firmato la cartolina RR voi attraverso voi a questo punto comune attraverso lo IUN avete questa schermata e siete in grado di monitorare ogni singola notifica che avete inviato eccolo qua e vedete che quando voi dove vedete la clips e tutte sono tutti gli atti con opponibilità a terzi oppure ricevuta di accettazione PEC oppure attestazione di opponibilità a terzi ok fin qua avviene in questo modo rispondo alla domanda che faceva prima rosaria che dice sì ma io cosa faccio anzi Cristina corre dice sì ma io tutti quei cittadini che non hanno competenze digitali bla cosa cosa succede ora quei cittadini hanno il seguente problema pagano un sacco di soldi di notifica perché perché la piattaforma riceve digitale fa le verifiche se sono in send se non sono in send la piattaforma comincia a stampare gli avvisi di cortesia e li fa recapitare dai postini ovviamente questa attività intanto un primo costo che paga quel cittadino non lo pagate voi lo paga quel cittadino secondo l'atto viene stampato perché viene recapitato a mano come oggi e ovviamente quello un costo devi mobilitare il postino e ovviamente anche quello un costo pagopia firmato per ogni regione penso sia con le poste un disciplinare dove quantifica il costo di ognuna di queste attività e vedrete che non è poco la relata di notifica mentre se io l'ho fatta digitale e ho una PEC è gratuita perché mi viene inviata direttamente sulla mia PEC se io sono solo analogico la stampa della relata di notifica e io la pago quindi la convenienza per i cittadini è quella di andare su stand cosa vi consiglio di fare perché ci stiamo avviando un po' alla fine di questo webinar ma se poi voi volete dedichiamo un po' nei microprogetti questa parte gestione documentale possiamo anche un po' vedere come sistemarvela in gestione documentale sia chiaro va fatta una campagna di comunicazione ai cittadini soprattutto sul tema delle spese le spese le trovate all'interno di questo decreto ministeriale 30 maggio 2022 che è quello sulla individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese quindi tutta la parte spese è disciplinata da questa norma vi consiglio di vederla per evitare anche là qualche problema con i fornitori qui invece trovate il regolamento di cui vi parlavo prima perché molte delle cose che vi ho detto non le trovate in legge ma le trovate nel regolamento vi consiglio poi vi diamo le slide quindi queste cose le trovate tutte nelle slide questa è una sorta di bignami per capirci allora vi consiglio di scaricarvi questo toolkit a questo indirizzo web a questo toolkit dove ci sono dei materiali già pronti all'uso e delle modalità di comunicazione ai cittadini perché aderiscano a SEND se io fossi in voi un mese prima della partenza in SEND io farei proprio dei momenti veri e propri di comunicazione tenete conto che le vostre regioni hanno ricevuto finanziamenti bando 1.7 per i facilitatori digitali cioè mettono a disposizione soprattutto dei piccoli comuni dei facilitatori digitali chiedete chiedete alle vostre regioni di specializzare soprattutto sul tema facilitatori digitali che si occupino di SEND perché se non si spiega bene ai cittadini ci sono problemi e non vorrei che i cittadini ricevessero le notifiche a mano vedono una marea di soldi di notifica poi vengono ovviamente in comune a chiedervi perché voi dovete sapere perché ma soprattutto la risposta è andate su SEND io ti faccio vedere come si va su SEND perché se vanno su SEND i costi di notifica si riducono a 2 euro di uso di piattaforma il resto non si paga più perché avviene tutto direttamente in piattaforma capite che è un bel vantaggio per il cittadino è un modo un po' violento di digitalizzare è un modo un po' violento però io non sono il legislatore sia chiaro quindi però si può fare un ottimo tool di comunicazione quello che vi ho messo in questo indirizzo vi ho messo anche il manuale operativo quindi molte delle cose che vi ho raccontato oggi un po' diciamo così compresse perché diciamo il mio tempo era grossomodo un'ora le trovate poi nel manuale operativo finisco con il tema di INAD che non è cosa è cosa diversa da SEND formalmente ma come vedrete viene intersecarsi strettamente con SEND ora come voi sapete dal giorno 5 di luglio è partita ufficialmente la piattaforma indice nazionale dei domicili digitali dei cittadini quindi dal giorno 5 di luglio ognuno di noi può eleggere il proprio domicilio digitale io ovviamente ho eletto il mio domicilio digitale che cos'è il mio domicilio digitale? è una PEC nel momento in cui io eleggo il mio domicilio digitale dal giorno 6 luglio 2023 le pubbliche amministrazioni possono notificarmi esclusivamente su quel domicilio digitale non possono cioè notificarmi carta e soprattutto la notifica che viene fatta sulla mia PEC non ha alcun costo di notifica mi è successo in queste settimane di ricevere da comuni notifiche cartacee con onere di notifica le ore spinte tutte sono state tutte abolite in autotutela da quelle amministrazioni che poi mi hanno provveduto a notificare utilizzando INAD quindi osservazione mia voi quando notificate a cittadini verificate se questi cittadini sono o no in INAD perché se sono in INAD non potete notificare carta esclusivamente dovete notificare utilizzando PEC come fate a vedere qui ci sono alcuni dati alcune statistiche come fate qui vi ho messo le linee guida eccetera volevo però portarvi a una slide eccola qua nel sito voi avete la possibilità di fare una ricerca per codice fiscale quindi dopo aver plagato il CAPSCA se dovete dire che non sei un BOT mi inserisci il tuo codice fiscale e la piattaforma ti dice se quel cittadino ha o no un domicilio digitale se ha domicilio digitale è evidente che voi obbligatoriamente dovete notificare su PEC se non ce l'ha utilizzate carta dice ma i sistemi non dovrebbero fare la verifica con automatismo Rosaria se tu intendi per sistemi i software di gestione documentali vostri dovete chiedere al vostro fornitore di interfacciarsi con ANPR perché? perché INAD ogni notte finisce in ANPR quindi se i vostri gestionali tributi e polizia municipale sono interfacciati con ANPR avviene automaticamente ma se non sono interfacciati con i gestionali mi scusi a me risulta che le spese di notifica a mezzo PEC siano di Euro 2 Euro 2 sono solo se tu utilizzi SEND ma se Vianello è in INAD se Vianello è in INAD cioè tu vedi che Vianello è in INAD non passare per la piattaforma dalla tua PEC notifichi alla PEC di Vianello cioè la piattaforma non è un obbligo è una straordinaria opportunità se voi fate notifiche massive ma se voi fate notifiche singole e un cittadino è in INAD notificate su INAD fate prima non serve che voi la carichiate in piattaforma notificate direttamente se voi fate le massive ovvio andate in piattaforma cioè dovete imparare a gestire il processo di notifiche in modo diverso torno a voi siete piccoli comuni se io dovevo non abbiamo risolto il problema della popolazione anziana si costringono persone non in grado io non sto costringendo nessuno Cristina il cittadino carta quindi SEND non interfaccia con INAD SEND non interfaccia con INAD INAD interfaccia con ANPR SEND è interfacciato con ANPR è chiaro Rosaria? SEND è interfacciato con ANPR ANPR ogni sera attira su i domicili digitali da INAD ok? se la PEC non va a buon fine perché l'ho utilizzato piena il sistema procede con il cartaceo? certo il sistema procede con il cartaceo se la PEC è piena perché il cittadino la vuole tenere piena bla le storie che conoscete bene SEND produce carta ovviamente il cittadino paga perché ovviamente paga carta è chiaro che io alla popolazione più anziana non ho risolto il problema ma io questo non sono in grado di risolvervelo io non sono in grado di risolverlo in questo punto io so però anche qua tutto quello che volete voi ma l'iscrizione in SEND se assistita da un facilitatore digitale è una sciocchezza ci si mette un minuto ci si mette un minuto esatto ed è una cosa semplicissima poi capisco che c'è un pezzo di popolazione che dovrà pagare di più perché utilizza carta ma questa ormai è una tendenza di far difficilmente contrastabile non la sto valutando non sto dicendo se è positiva o negativa il mio compito in un'altra sede potrei dire se è positiva o negativa ma non è questa la mia cosa spese di notifica tramite PEC diretta 2 euro al Ministero delle Finanze no no perché poi lo vado a verificare anche io tutto quello che volete voi però attenzione 2 euro è quando tu utilizzi SEND se io ti mando direttamente PEC non capisco perché devo pagare il titolo però faccio una verifica ugualmente mi scusi se la notifica non avviene via PEC e si inoltre a cartacea ed il contribuente dovrà pagare il cartaceo l'accertamento è messo cosa vuol dire cambia come si rettifica cosa intendete cambia come si rettifica perché viene quando voi emettete gli atti utilizzando SEND utilizzando SEND viene dai Rosaria fa delle affermazioni che io condivido molto però non posso imbarcarmi in questo dibattito allora il sistema genera automaticamente le spese che il cittadino dovrà sostenere e voi potete allegare a ciò che notificate il bollettino Pago.pia per effettuare i pagamenti attenzione essendo la piattaforma collegata a Pago.pia il cittadino può vedere l'atto nella sua interezza comprese le spese e pagare direttamente utilizzando Pago.pia stessa cosa avviene se c'è carta solo che viene stampato e quindi questo genera di io qui ho finito la mia parte se c'è qualche altra domanda altrimenti restituisco la parola a Irene Torrelli eccomi qui grazie Michele e grazie a tutti voi vedo che appunto è stato anche insomma molto dibattuto molto dibattuto insomma alcuni temi sono stati molto dibattuti vi ricordo diciamo il allora scusate che qua è cambiata la condivisione vediamo se riesco a farvi se no ve lo ricordo a voce nel senso che allora tutte le nostre le slide e la registrazione le troverete sulla pagina sulla pagina del sito che è territori.formets.it e territori in rete scusate e poi troverete anche diciamo quindi da una parte quello la prossima incontro il prossimo webinar sarà il 22 22 febbraio sempre alla stessa ora e probabilmente manterremo diciamo questa giornata così insomma sapete che diciamo più o meno ogni due settimane faremo un nuovo webinar e sempre nel pomeriggio dalle 15 alle 16 e 30 e via via diciamo vi daremo un po' i temi il prossimo webinar sarà sempre il relatore sarà sempre Michele Vianello e invece lì parleremo della piattaforma digitale nazionale dati e della banca dati della NPR e quindi della banca dati dei servizi anagrafici e quindi di tutti i problemi che probabilmente ecco questa cosa diciamo delle funzionalità meravigliose insomma che finalmente abbiamo ma diciamo anche delle difficoltà che hanno i comuni diciamo ad interagire con queste piattaforme scusa un attimo solo Irene prego perché ha messo giù in lucio il decreto ma attenzione questo si riferisce solo alle procedure esecutive cautelari a carico del debitore quindi non tutte le notifiche cioè attenzione a non far casotti su questo punto qua poi me la guardo ancora meglio io però attenzione riguarda solo una certa tipologia non tutte quindi state molto attenti non sono d'accordo insomma c'è scritto se puoi non essere d'accordo ma basta leggerlo c'è scritto individuazione delle misure relative al costo di notifica certo ma è una tipologia di notifica non sono tutte le notifiche se io notifico uno l'abbattimento di un capannone non ho capito scusami cosa c'entra il debitore? va bene scusami non mi fermo scusami fermati allora mi si afferma un uomo non corretto allora quindi diciamo che appunto prossima troverete appunto come abbiamo detto tutto quanto nella sezione appunto nella pagina web di territori in rete dalla nostra pagina web del Formez troverete slide registrazioni adesso alla chiusura diciamo della nostra sessione sarete reindirizzati sul questionario di gradimento di questo webinar che vi preghiamo insomma di compilare perché diciamo anche la vostra opinione è per noi preziosa anche diciamo per proseguire nelle nuove attività quindi detto ciò vi ringrazio vedo che siete rimasti in tanti insomma collegati quindi evidentemente è stato di vostro interesse qualora ci fossero diciamo anche dei suggerimenti vi preghiamo anche di iscriverci insomma ci sono pubblicate ci sono le nostre le nostre mail quindi se ci fosse anche qualche argomento particolare di vostro interesse che volete approfondire una parte del progetto FAST oltre che appunto andare in supporto diciamo anche fisico in presenza e con assistendovi diciamo per la realizzazione di questi microprogetti c'è anche una parte diciamo di affinamento competenze e diciamo informativa che credo che possa essere utile sfruttare al meglio da parte di tutti voi quindi detto ciò vi ringrazio e vi do appuntamento appunto al 22 grazie a tutti grazie a tutti voi buona serata e grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti